buongiorno antonio ho aperto il tuo apparato si presenta in queste condizioni onestamente non me la sento di metterci le mani anche perché non so da dove incominciare la colla la colla a caldo si applica in questo lavoro che è stato fatto c'è questa ventola qui molto probabilmente il difetto che tu riscontri cioè l'ascolto che non si sente bene è dovuto a questa ventola questa ventola di sicuro disturberà la bassa frequenza e quindi è per questo che si sente si sente male quindi giudicate voi che state vedendo questo video giudica tu stesso antonio se si può fare qualcosa io onestamente non so nemmeno da dove incominciare e sfido anche non ho non ho metto in dubbio la bravura di quello di colui che ha fatto questi lavori però lo sfido a metterci la mano per vedere da dove da dove incomincierebbe lui se dovesse fare qualche riparazione in qualche apparato in questo apparato ha coperto la scheda con con il cemento la scheda la scheda eco perché adesso adesso questo è un segreto che nessuno conosce questa scheda ci ha messo il cemento pure qui non faccio niente mi dispiace antonio lo chiudo e te lo restituisco come ho pubblicato questo video anche così con per farlo vedere magari agli amici di youtube che in certe condizioni non si può operare grazie per aver visto questo breve video e ci sentiamo grazie per aver guardato il video